Questo si decide a ultimi minuti, umori diversi, un umore che cresce, uno che si abbassa, ma generalmente parlando grazie alla classifica e le partite che ha giocato, che ha detto prima d'oggi, si sta bene secondo me, si sta bene in grazie di Dio. Ho capito pure quando si giocava la finale della Scamolini contro il Barziano, la finale di Coppa dell'Europa e poi ci fu la finale di Coppa Corazio di Caserta, anche quell'evento distrasse un po' la tua squadra. Trent'anni fa? 86. Ne ho fatti cinque finali di Coppa Corazio. Ho perso tutte e cinque. Evidentemente. Questo è il record mondiale. Certo. Eppure avevo nel cuore, sai, perché Corazio era il mio compagno, il mio idolo, e non mi è andata bene. Allora qualcuno mi ha promesso di farmi fare una di quella Coppa, sai? Come se avessi vinto. La mano sinistra. Cinque volte. Vedi che non dovessi vincere la Coppa del tuo amico, no? Sì, sì. Intitolato il tuo amico. Sì, sì. Eh, l'amico idolo è una grande persona. Era la Coppa con la mano sinistra che tiravano. Sì, la palla tagliata come tagliata la vita del suo fratello è un scultore, anche lui e un scultore, anche lui, il suo fratello è un bel amico.